Benvenuti a questa sedicesima edizione del Lady Langjacks Festival. Iniziamo questa sera con un artista australiano. È un grande artista, un grande virtuoso, che riesce a creare delle atmosfere particolari con la platea, sia attraverso la sua bravura tecnica che attraverso questo suo feeling. Signori, buona serata. Tommy e Manuel. Tutto ok? Beautiful. Bella vista. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.